Siamo finalmente giunti alla conclusione dei lavori di realizzazione del nostro giardino. Il giardino appena impiantato ha un aspetto molto diverso rispetto a quello che assumerà a maturità. In questa fase il progetto che abbiamo concepito, l'atmosfera che vogliamo creare, si intravede appena. Infatti le piante sono ancora piccole e hanno bisogno di tempo per raggiungere il loro aspetto maturo. Per quanto riguarda gli arbusti avremo bisogno di due o tre anni affinché diano il meglio di sé. Per quanto riguarda invece gli alberi dovremo aspettare ancora di più in un'evoluzione che fa del giardino un essere, un'entità vivente che evolve insieme a noi. Dopo l'impianto bisogna quindi concentrarsi non tanto sull'aspetto estetico del giardino quanto sul far sì che le piante attecchiscano. Durante la prima stagione gli elementi vegetali sembreranno immobili, non cresceranno particolarmente all'esterno. In realtà la gran parte del lavoro avviene nel sottosuolo. È qui che l'apparato radicale prende possesso del terreno ad esso assegnato e la pianta si rende gradualmente autosufficiente. Quindi durante la prima stagione dobbiamo prenderci cura delle piante, assicurarci il loro benessere, far sì che superino la prima stagione calda che nel nostro clima è il momento più difficile e poi accompagnarle con rispetto durante le loro fasi di crescita. Nell'arco di alcuni anni finalmente il nostro sogno sarà realizzato e con esso otterremo la soddisfazione che tanto ricerchiamo.